capitolo ii gli ordini che de vincenzi diede al telefono furono brevi chiese a sani di accorrere con qualche agente e col dottore cruni doveva recarsi immediatamente all'albergo palazzo e piantonarvi l'appartamento di bolton poche rapide parole e riappese il ricevitore ma dunque è toccata moran questa volta e chi credevate che fosse olari non poteva essere che lui dal momento che era soltanto lui che volevano uccidere strani bagliori passavano negli occhi di prospero egli seduto sulla poltrona bassa si teneva i bracciuoli con le mani quasi si aggrappasse ad essi per essere pronto a balzare e voi credete che a ucciderlo sia stata cristiana è una pazzia commissario ma chi vi ha detto che io lo credo non tentate d'ingannarmi voi lo credete come credete che sia stata lei a uccidere valerio un unico assassino ha commesso questi delitti e se l'aver trovato la medaglia del cinodromo accanto ai manichini vi ha fatto dubitare di cristiana di vincenzi lo osservava con attenzione prospero si era interrotto la vostra teoria è interessante olari lo metto si alzò si deve trovare cristiana commissario soltanto lei potrà dimostrare la propria innocenza e dove l'andiamo a cercare olari se almeno voleste dirmi dove l'avete cercata voi cristiana qualche volta dà appuntamento ai suoi amici in una pasticceria di via santa margherita è lì che mi sono recato e ci sono rimasto per oltre un'ora ma non l'ho veduta ai suoi amici signor olari prospero evitò lo sguardo di de vincenzi lei li crede tali agli amici della sua rubrica telefonica intendete oremus si passò il dito nel colletto quasi si sentisse soffocare sapete questo o dio è pur necessario che qualcosa sappia gli volse le spalle non importa che cerchiamo cristiano brian può darsi sia tornata si dirigeva alla porta quando fu sulla soglia si fermò perché non venite con me a vedere il cadavere signor olari preferisco non lasciarvi solo olari lo raggiunse quando furono davanti alla porta che dall'amministrazione metteva nel corridoio vincenzi si ritrasse e lo fece passare avanti lo metto s'incamminò rapido ma dopo pochi passi si fermò dove dove lo hanno ucciso è vero voi non lo sapete venite con me davanti al cadavere prospero rimase qualche istante in silenzio poi crollando il capo mormorò ne ha scampate d'ogni sorte in america ed è venuto a farsela fare qui lo conoscevate bene voi io ma non lo conoscevo affatto vi ho parlato di lui perché tutti in america ne parlavano e perché sul rex cristiana mi si era confidata ma è la prima volta che lo vedo naturalmente di vincenzi si era chinato a frugarne le tasche del cadavere quasi subito si rialzò fatica inutile non credo che gli troveremo nulla di interessante addosso dal fondo del corridoio venne un rumore di passi di vincenzi di discese seguito da olari era sani col dottore gli agenti il cadavere si trova per le scale appena il dottore l'avrà esaminato fallo portar via tra poco dovranno uscire le operaie e non si può umanamente imporre loro un tale spettacolo il giudice istruttore comprenderà e del resto sani fallo avvertire subito se può venire in tempo tanto meglio mise due agenti di guardia nel corridoio ed entrò nell'ascensore dicendo a olari rimanete qui voi le tre donne stavano nella camera di cristiana rosetta appoggiata a una parete presso alla porta non si inghiozzava più ma aveva ancora gli occhi pieni di lacrime evidentemente la fanciulla aveva detto di aver veduto un cadavere perché gli sguardi di cristiana sempre in pelliccia e col cappello sul capo erano pieni di terrore e marta e madama firmino corsero incontro al commissario con ansia è proprio mister bolton chiese marta rosetta afferma di averlo riconosciuto dal pastrano e rosetta non si è ingannata ma perché perché hanno ucciso quell'americano che nessuno conosceva e perché mai lui stava salendo per la scala di servizio tutto quel che accade qui dentro da ieri è pazzesco di vincenzi alzò le spalle lui sapeva ormai che era proprio la pazzia a non entrarci per nulla i calcoli dell'assassino erano stati perfetti egli aveva saputo trar partito da ogni occasione con una prontezza e un'abilità sorprendenti se riuscirò a smascherarlo si disse potrò dirmi fortunato l'avere intuito chi è non significa nulla fino a questo momento perché non soltanto io non ho neppure un'ombra di prova ma tutte le apparenze stanno a dimostrare che mi inganno si avvicinò alla piscinina di dove venivi tu quando lo hai veduto? Rosetta rispose con voce singhiozzante uscivo dal laboratorio madama indicò Dolores mi aveva mandata via dagli uffici ma io dovevo tornare al primo piano se fosse venuta qualche signora non c'era nessuno alla porta e perché sei salita quassù invece di tornare nel laboratorio ho sentito la voce della signorina Marta infatti era il momento in cui lui aveva terminato di ispezionare la stanza dei bauli e Marta e madama Firmino si trovavano proprio al sommo della scala di servizio avevi sentito qualche rumore prima di uscire dal laboratorio il rumore di uno sparo no torna nel laboratorio e non dir nulla a nessuno di quel che è accaduto l'accompagnò nel corridoio e la fece discendere con l'ascensore quando rientrò nella camera Cristiana era seduta mi duole signora ma è assolutamente necessario che scendiati al primo piano madama Firmino e Marta vi accompagneranno Cristiana lo guardò sorpresa dopo una breve esitazione cominciò a togliersi il berretto di pelo e si alzò gettò il berretto e la pelliccia sul letto e si incamminò verso il corridoio dalla soglia disse con ironia questa volta il cadavere non è stato trovato sul mio letto commissario infatti ma forse dovete soltanto a Rosetta se esso è rimasto per le scale la donna sussultò e apparve agitata da un fremito convulso i suoi occhi a mandorla dalle grandi pupille luminose le si fecero immensi credete credete che volessero De Vincenzi la spinse dolcemente oh quel che volevano nessuno può saperlo ancora non pensate a questo adesso un fatto è sicuro a ogni modo non uccideranno più nessuno e voi non troverete altre orchidee Cristiana tacque procedeva come un'automa dietro a lei e a De Vincenzi venivano madame Firmino e Marta quando furono alla porta dell'ascensore De Vincenzi premette il bottone di chiamata e mentre attendevano chiese volete dirmi dove siete stata oggi? Cristiana si scosse mormorò non mi crederete non importa ditelo egualmente sono stata da mio marito da colui che è stato mio marito poiché avevo paura di vederlo da sola mi sono fatta accompagnare dalla Campbell e gli avete parlato? sì a che ora? prima delle tre alle tre ero fuori dell'albergo ci siamo detti poche parole soltanto avete veduto lui solo? sì nel suo appartamento? in un salotto pieno di fiori sorrise tristemente lui ama i fiori si intese lo scatto dell'ascensore che era giunto all'altezza del loro piano già eduard moran amava i fiori ma non c'erano orchidee fra i fiori che voi avete veduti oggi vi ringrazio signora rimasto solo De Vincenzi entrò nella stanza dei bauli prese un'orchidea delle cinque rimaste e tornò con essa nella camera di Cristiana grazie 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 grazie